Lancinante dolore alla gamba Era sera quando Enrico, volontario in Africa, rinvenne con un lancinante dolore alla gamba e la vista annebbiata. La coscia era avvolta in una larga fasciatura e l'ambiente era la corsia dell'ospedale improvvisato. Quando riuscì a mettere a fuoco lo sguardo, Enrico vide una suora giovane, il viso grassottello come quello di un angioletto, piegata verso di lui, con aria preoccupata. Poteva avere una ventina d'anni. Io sono suor Nadia, come si sente? Nadia chiamò la suora anziana e sveglio. La suora arrivò subito. Bene, commentò con uno sguardo pieno di allegria. Come sta la mia gamba, disse Enrico, lottando per trattenere un gemito. La ferita era sporca e in mancanza del medico ho dovuto fare una piccola incisione ed estrarre il proiettile, spiegò la suora. Ora l'abbiamo disinfettata e potrà guarire. Enrico impiegò qualche istante per ritrovare l'orientamento. A fianco della suora anziana quella giovane continuò a fissarlo, fino a che lui non le restitui lo sguardo. Poi la suora giovane distolse in fretta gli occhi impacciata. L'attenzione di Enrico si concentrò sulla suora anziana, su quella donna che era capace di pregare per i terroristi che avevano sparato a lui e ad altri, con la stessa disinvoltura con cui avrebbero spennato un pollo. Rimase per qualche secondo ad osservare il viso della vecchia suora che tremolava davanti alla sua gamba e disse «Madre, perché si occupa tanto di questi selvaggi?» La suora sollevò il viso dalla ferita e disse inaspettatamente «Perché a mano a mano che il mio sentire diventa più costituito ed ha una vibrazione più raffinata, si apre a dimensioni maggiori, cioè ai fratelli che in Africa sono alle incarnazioni umane più giovani e il mio sentire subisce uno scatto evolutivo. «Sì, madre, ma quei fratelli, come lei li chiama, ci uccidono», disse Enrico. La suora gli mise delicatamente una mano sulla spalla e disse «Questo avviene per lo scontro con l'esperienza nel piano fisico, ma siamo lei ed io che siamo venuti in Africa». «Sì, ma non siamo venuti in Africa per farci uccidere». «No, ma la nostra scelta comportava il rischio di essere uccisi e quindi il tuo ferimento fa parte del processo per cui la tua coscienza si sta costituendo in Africa», disse la suora anziana, mentre la suora giovane assentiva.